buongiorno oggi vediamo come aggiornare il software del nostro display re marina azion dalla pagina principale clicchiamo su impostazioni la prima pagina che ci viene mostrata è proprio quella relativa all'aggiornamento software cliccando su aggiorna software il display ci chiede se vogliamo controllare la scheda sd oppure online controlla la scheda sd vuol dire che avremo dovuto scaricare il nostro aggiornamento dal sito re marina l'avremo trasferito su una micro sd e messa all'interno del lettore di carte controlla online invece ci apre una pagina per le impostazioni wifi dalla quale sceglieremo la rete a cui connetterci e poi cliccando su inizio il sistema operativo verifica gli aggiornamenti disponibili online una volta che il sistema controlla se ci sono aggiornamenti disponibili ci chiederà se vogliamo procedere all'aggiornamento del sistema operativo cliccando su aggiorna il sistema operativo inizierà il download del file di aggiornamento una volta terminato il download il sistema operativo caricherà l'aggiornamento e riavvierà il sistema '